ben ritrovati nelle studi di obiettivo news il 25 settembre gli italiani stanno chiamati alle urne e oggi vogliamo andare a scoprire il programma di un candidato della lega un candidato un deputato uscente alessandro gilio vigna benvenuto buongiorno grazie magda grazie vostri ascoltatori allora candidato uscente ricandidato sempre come deputato per la lega sì esatto esatto ricandidato per questo collegio per il collegio uninominale 04 il collegio che comprende anche il territorio di verea di rivarolo del canavese delle valli di lanzo un'area diffusa con importanti criticità ma anche importanti prospettive di sviluppo una scelta quindi che è stata fatta sulla base del buon lavoro che è fatto finora ma io penso di sì poi ovviamente le liste non le ho fatte io bisognerebbe chiedere a chi ha fatto le liste a riccardo molinari e a matteo salvini perché la scelta di ricandidarmi io posso dire che quello che ho fatto in questi quattro anni e mezzo di diciottesima legislatura dal 2018 oggi è stata un'operazione che qui nel nostro canavese mai nessuno aveva provato a fare ho preso le istanze di questo territorio andando a parlare con sindaci con associazioni con amministratori comunali con club con gruppi di cittadini con associazioni datoriali sindacati e ho preso queste istanze istanze che alle volte sono problemi alle volte sono temi altre volte sono idee quindi altre volte si parla anche in senso propositivo e le ho portate a roma ho aperto le porte di questo territorio del canavese ho aperto a questo territorio al canavese le porte dei palazzi romani le porte delle stanze dove vengono prese le decisioni dove si schiacciano i bottoni sostanzialmente e questo è una tipologia di politica che non era mai stata fatta su questo territorio non so come mai ma la maggior parte delle persone con cui ho potuto fare squadra e che ho accompagnato a volte fisicamente a volte invece solo sotto forma di documentazione che è stata consegnate che poi ho portato sui tavoli del dei ministeri o insomma i tavoli delle presidenze delle commissioni i tavoli dove vengono prese queste decisioni e molti di questi attori del nostro territorio mi hanno detto che era la prima volta che questo succedeva che questa operazione non è mai stata fatta in canavese alcune tematiche si sono risolte alcune idee sono andate a concretizzarsi molto work in progress ovviamente molto work in progress perché nel nostro paese questo forse è uno dei problemi di questo paese spesso la soluzione o la risoluzione o la messa a terra di idee è più lunga della durata di una legislatura o di una consigliatura di un mandato di un sindaco quindi questo sostanzialmente quello che ho fatto in questi quattro anni e mezzo di attività da parlamentare e questo è importante perché comunque viene letto un candidato del territorio proprio perché sia rappresentativo del territorio roma e quindi possa portare quelle che sono appunto le istanze i problemi i progetti ma sì io ovviamente quando affronto una campagna quando si affronta una campagna elettorale bisognerebbe parlare di quello che si è fatto di quello che si intende fare di dove si vuole arrivare di degli obiettivi io mi permetto di dire però mi permetto di fare un passaggio c'è stato un referendum che è stato un referendum sul taglio dei parlamentari e io non mi permetto di giudicare quel voto perché quando il popolo vota il popolo ha ragione e la democrazia è la base della democrazia poi il mio è un partito che ha a cuore anche il concetto di democrazia diretta l'istituzione del referendum tuttavia noi sapevamo e oggi ne abbiamo la prova che il taglio dei parlamentari possiamo dirlo va a svantaggiare quelli che sono i territori quelli che sono le province e ad avvantaggiare quelle che invece sono le grandi città quindi questo per probabilmente un concetto una scelta politica dei singoli partiti che preferiscono andare a fare delle candidature dove sanno che c'è più densità di popolazione quindi è più facile raggiungere i cittadini e quindi la tendenza col taglio dei parlamentari è stata da parte del 90 per cento dei partiti quella di dimenticare i territori il prossimo sarà un parlamento molto più rappresentativo di torino di milano di roma di bologna mi permetto di dire sarà una sorta di maxi consiglio comunale delle grandi metropoli italiane i territori come il canavese probabilmente i territori come canavese sono più difficili da rappresentare ed è più difficile che con il taglio dei parlamentari trovino una rappresentanza e quindi anche noi qui in canavese abbiamo visto il 90 per cento dei partiti fare delle candidature di fatto solo di facciata e questo un pochino mi dispiace perché io ho avuto modo di collaborare anche con ottimi colleghi parlamentari di tutti gli schieramenti di destra e di sinistra che non riusciranno a ritornare a ritornare a roma solo la lega solo il mio partito ha fatto delle candidature e la mia è quella più evidente con delle buone possibilità di uscire e di essere eletto cioè solo la lega si è ricordata dell'esistenza di un pezzo di territorio che si chiama canavese che non è né periferia né l'estrema periferia di torino né la parte sfortunata del confine piemontese valdostano ma che un pezzo di terra con una sua identità con delle sue istanze con dei suoi temi e quindi io quello che posso chiedere a tutti ovviamente oltre che dare il voto alla lega e anche nella fase successiva di fare il più possibile squadra di fare più possibile sinergia di fare più possibile squadra canavese perché solo facendo squadra canavese solo facendo massa critica di territorio quelle istanze che insieme non io da solo ma insieme ad amministratori associazioni sindaci e quant'altro abbiamo portato a roma potranno essere ancora portate a roma e io penso con una larga maggioranza di centrodestra e con un governo solido di centrodestra come preannunciano tutti i sondaggi trovare una soluzione ancora più semplice o trovare una messa a terra per quel che riguarda l'idea ancora più incisiva il programma è ricco e corposo vediamo solo qualche punto quello certo più importanti principali la flex tax ad esempio beh noi siamo dal punto di vista elettorale siamo assolutamente ottimisti siamo ottimisti perché i dati ci danno ci danno ragione dicono che il prossimo la prossima maggioranza il prossimo governo saranno largamente di centrodestra per quel che riguarda la maggioranza e quindi un governo un governo saldo siamo invece molto preoccupati dal punto di vista del paese perché si preannuncia un autunno difficile si pronuncia un inverno difficile io assolutamente sono contro qualsiasi tipo di razionalizzazione del gas dell'energia ma i prezzi continuano a salire il prezzo del carburante continua a salire nonostante i 25 centesimi di sconto che in questo momento ci sono una pompa di benzina voluti tra l'altro dalla lega in questa legislatura il prezzo anche dell'energia l'energia elettrica continua a salire avendo questo rapporto viscerale col territorio parlo ogni giorno con imprenditori con agricoltori e mi raccontano di situazioni mi raccontano e mi fanno vedere anche sulla carta le bollette e quant'altro di situazioni al limite dell'assurdo al limite del paradossale imprese di stampaggio che si trovano un 60 per cento di più in bolletta il gasolio agricolo che è salito di oltre l'ottanta per cento lo stesso prezzo del latte al del produttore canalesano che già prima aveva dei problemi essere competitivo con quello che arriva dalla germania con gli autobotti e adesso siamo oltre ogni ogni limite però a meno ovviamente non possono venderlo se non lavorare in perdita e la preoccupazione è molta noi pensiamo che solo con un radicale una radicale riforma della tassazione quindi con un abbassamento importante delle tasse si possa veramente far ripartire questo paese e si possa superare questa si possa superare questa fase di emergenza dopo la pandemia speravamo e pensavamo in una rapida ripartenza ma la situazione geopolitica ha portato oggi a questa conseguenza con la flat tax si abbassano le tasse non è vero che la flat tax è ingiusta io ho sentito letta o candidati del partito democratico dire che non è giusto che tutti paghino tutti paghino la stessa percentuale al di là che anche la flat tax più puro in questo paese non potrà avere la stessa percentuale quindi due o tre scaglioni dovranno comunque esserci perché è in costituzione ma al di là di questo discorso quando io faccio una tassazione del 15 per cento che potrebbe essere per le fasce di reddito un po più elevate del 18 19 per cento a fronte del fatto che oggi le imprese per un dipendente pagano il 60 per cento del costo del dipendente non va in busta paga del dipendente ma va allo stato a fronte del fatto che un lavoratore lavora per lo stato metà dell'anno quando io abbasso le tasse al 15 per cento crea uno shock positivo nel paese e questo shock positivo non può che portare dei risultati in ottica di ripartenza del circuito economico un altro discorso che riguarda gli aumenti e quindi una penalizzazione per le famiglie sono quelli alimentari i beni alimentari esatto esatto i beni alimentari e i beni alimentari e tutto quello che è bene di primo tutti quelli che vengono definiti i beni essenziali infatti il mio partito la lega propone un alzeramento dell'iva per tutto quello che è bene primario per tutto quello che è bene di prima di prima necessità questo per non per fare uno sconto non per alcuni ci dicono voi volete aiutare certe categorie piuttosto che altre no noi vogliamo aiutare prima di tutto i cittadini e il concetto finale quello di far ripartire l'economia perché solo con una ripartenza economica il paese riparte altri argomenti che sono di interesse a tutta la popolazione riguardano la sanità e la sicurezza che sono poi le cose che i cittadini vivono tutti i giorni sì la sanità è un tema complicatissimo è un tema nazionale che entra in modo preponderante anche nella nostra quotidianità e nel nostro canavese allora io a me danno fastidio a me da fastidio quei colleghi parlamentari o quei consiglieri regionali o alle volte esponenti di partiti politici segretari di partiti politici che semplificano e sviliscono il problema sanitario c'è un problema generale che è quello della mancanza di medici che è un problema che va avanti da vent'anni cioè già vent'anni fa era così adesso è scoppiato il bubone il problema si sta facendo sentire e io vedo politici canavesani o politicanti canavesani che vogliono manettarsi, incatenarsi davanti ad esempio al pronto soccorso di Cornia per fargli aprire il pronto soccorso di Cornia queste sono baggianate quando voi vedete un parlamentare un consigliere regionale che vi dice voglio riaprire tutti i costi allora io faccio la manifestazione sono baggianate perché il problema è che mancano i medici il problema è che il problema è un problema strutturale a livello nazionale allora bisogna subito subito rirazionalizzare la presenza dei medici sul territorio che non è facile che non è facile perché non sono militari non fanno parte dell'esercito che ricevono l'ordine e vanno quindi bisogna fare i concorsi bisogna certe volte anche avere pazienza in questo territorio ne abbiamo avuto anche tante alcuni problemi si sono risolti grazie anche all'ottima guida dell'ASL Torino 4 di questi anni a cui io faccio i miei complimenti e grazie all'assessore i Claudi e grazie al fatto che il vice presidente della Commissione Sanità è in regione Piemonte un Canavesano si chiama Andrea Cane un consigliere regionale Si è creata una vera e propria task force cannavesana con il focus sanità, che comprende regioni, che comprende ASL, che comprende l'assessorato, abbiamo il problema del pronto soccorso di Cournier, che è chiaro che va riaperto, che tutti vogliamo riaprirlo, ma è necessario invogliare medici, invogliare giovani medici ad andare a lavorare in quel pronto soccorso. C'era il problema del pronto soccorso di Ivrea, che è stato risolto, ma che è stato finalmente inserito in organico un direttore sanitario, a cui io faccio i miei complimenti, che ha ribaltato il pronto soccorso e anche l'immagine stessa del pronto soccorso. A voi giornalisti penso che adesso vi arrivino molte meno segnalazioni da Ivrea. L'ospedale di Ivrea ha guadagnato due, tre primari nuovi, giovani, che a loro volta hanno invogliato dei medici ancora più giovani, ad andare a lavorare nei loro reparti. C'è il problema del pronto soccorso di Lanzo, c'è il tema dell'ospedale di Castellamonte, c'è stato il tema del medico di base del popolosissimo quartiere San Giovanni di Ivrea, che fortunatamente è stato risolto addirittura tre mesi prima delle previsioni di regione e di ASL. Questo è quello che noi vediamo sul territorio. Ci sono gli ambulatori e la sanità di prossimità delle montagne, con gli amministratori eroi della montagna, che fanno i salti mortali. Penso al comune di Locana, per esempio, che cerca fisicamente, telefona a medici, infermieri, per cercare di tenere aperto o di aprire altri pezzi di sanità e di prossimità nel loro comune. Noi qui, a livello locale, regione e ASL, e tutti ovviamente coloro che hanno voglia di mettere testa, tempo e energia in questo tema, possono ovviamente andare in giro a creare piccole migliorie, ma è chiaro che l'obiettivo deve essere nazionale, quello di aprire la sanità, aprire, scusate, di sicuro il numero chiuso a medicina, di aumentare i posti nelle specializzazioni di aiutazioni e di invogliare i giovani medici a fare certe specializzazioni, perché di conto oggi, dopo un boom dei medici che volevano fare pronto soccorso negli anni passati, adesso ce ne sono meno, ci sono meno radiologi, per esempio. è chiaro che anche i medici hanno specializzazioni più interessanti o comunque che attirano di più e altri che attirano di meno, poi è ciclico, non è sempre uguale ogni anno e non è sempre uguale in ogni periodo, però la cosa più importante, la cosa da fare subito in questo momento, aprire il numero chiuso, aumentare i posti di specializzazione e invogliare i medici laureati, i giovani medici laureati a partecipare e a fare certe specializzazioni che oggi non vogliono più fare. Se interveniamo subito, evitiamo la catastrofe più totale, perché di questo stiamo parlando del fatto che mancano medici, mancano medici e lo vediamo sul territorio, quindi se interveniamo subito riusciamo nel giro di 7-8 anni a invertire la tendenza e iniziare a risolvere il problema, tutto il resto sono bagianate. Anche perché è un problema non da poco, considerando poi che la sanità italiana e del territorio, della provincia di Torino è un'eccellenza, basta vedere la città della salute che arrivano dall'estero per farsi operare e per risolvere comunque problematiche importanti. Il 16 alla sera si inaugura l'enisoccorso a Ceresole Reale, sarò presente, un'opera fondamentale, di nuovo voluta da comune, dal comune di Ceresole Reale, dall'ASL, che tutti fortemente sul territorio l'abbiamo appoggiata, importantissimo perché anche quello è un collegamento, è un ponte fra i nostri paesini di montagna e gli ospedali di Ivrea e l'ospedale e gli ospedali di Torino. Certo. Un altro tema è la sicurezza, anche le forze dell'ordine, purtroppo lo vediamo in Canavese, comunque c'è carenza anche di personale, faticano molto spesso a riuscire a coprire il territorio che è vasto e si impegnano davvero tanto. E lì bisognerebbe, come dice Matteo Salvini e come aveva iniziato, provato a iniziare a fare Matteo Salvini quando era ministro dell'interno, bisognerebbe prendere dalle graduatorie e assumere nuovi poliziotti e nuovi carabinieri. Perché è vero che il problema è che sono troppo pochi, ma c'è anche un altro problema, ovvero l'età troppo elevata delle nostre forze dell'ordine, nel senso che parlando con il massimo rispetto verso poliziotti, carabinieri, guardie di finanza che hanno raggiunto una certa età. È chiaro che un ragazzo in divisa di 25, 30, 35, 40 anni potrà sempre, in ogni caso, essere più efficace di una persona con invece più anni di onorato servizio. Infatti che cos'è che vediamo? Vediamo che molti vengono trasferiti dentro la caserma, vanno giustamente a fare lavoro di ufficio, dopo aver fatto il lavoro in strada per tantissimi, forse anche troppi anni, molti vengono trasferiti in ufficio e quindi evidentemente le strade risultano scarse di forze dell'ordine. L'alternativa è ancora più giusta, perché l'alternativa è costringere persone che hanno fatto tanti, forse troppi anni di onorato servizio con la divisa nelle strade, a continuare ad andare magari parzialmente nelle strade a fare il servizio insieme ai poliziotti, i carabinieri più giovani, quindi è chiaro che è necessario sbloccare queste graduatorie, perché nelle graduatorie c'è tanta 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 gente che aspetta di entrare e di mettersi la divisa, di fare il proprio servizio verso lo Stato e verso i cittadini. Restando in Canavese, di cosa ha bisogno il territorio? A parte risolvere ovviamente le questioni che riguardano la nazione, quindi la crisi economica. Io penso che questo territorio non abbia niente di meno che altri territori più blasonati del nostro Piemonte. In altri territori si è riusciti a fare, e lo dicevo prima, squadra e sinergia di territorio. Io penso che noi canavesani abbiamo forse troppo la tendenza a ragionare per compartimenti stagni, a ragionare ognuno per il proprio orticello. E lo dico a mio svantaggio, perché sto chiedendo ovviamente i voti al canavese, forse non è propriamente il momento per fare una critica verso il mio territorio. Ma la faccio intanto perché oramai questo è un discorso quasi strutturale della mia attività politica su questo territorio. Nel senso che chi mi conosce sa che sono almeno 20 anni che dico, da quando sono entrato nel partito, nella Lega, a 19 anni, che dico più o meno questo concetto. E nel tempo io ho visto il canavese imparare a fare squadra, ho visto parti di canavese e pezzi di territorio unirsi per raggiungere certi obiettivi. Bisogna osare di più, bisogna farlo più spesso, bisogna farlo in modo più strutturale, perché in altri territori del Piemonte si è raggiunto certi livelli, credendo e credendo fortemente nel fatto che quei territori sono territori d'eccellenza. Ecco, forse a noi canavesani ci manca questo. Siamo stati abituati nel tempo a alcune grandi industrie che ci hanno aiutato, hanno di sicuro creato uno sviluppo incredibile di questo territorio, ma con la fine di queste grandi industrie il canavesano ha smesso di collaborare con il resto della propria comunità. Comunità è qualcosa di importante, è una parolina magica che in canavese ha un significato ancora più importante, perché ci riporta all'esperienza di Adriano Livetti, perché ci riporta a quel mondo. Ora, noi dobbiamo rimparare a fare squadra, dobbiamo rimparare a fare sinergia. Quando tu vai in un ristorante, ordini un vino bianco in canavese, che cosa trovi? Eh, ho capito dove vado in erbaluce. Perché non beviamo erbaluce in canavese? Esatto, lo beviamo soprattutto e quasi in canavese no. Erbaluce, a parte nelle zone proprio di produzione, Caluso, i paesi vicino, Epiverone, i paesi vicino, Cuccelli, cioè a parte proprio le zone di produzione. Se io entro, io spolcherizzo i ristoratori canavesani e mi arrabbio ovviamente bonariamente quando non trovo la bottiglia di erbaluce nel ristorante o nel supermercato in canavese. E questo vuol dire che ancora non crediamo abbastanza in questo territorio. Quando io ho portato su Ivrea quell'evento microcredito, quell'evento di self-employment, di auto, imprenditorialità, attraverso l'internazionale microcredito che lavora per conto del ministero dello sviluppo economico, ho voluto, potevo farlo da solo quell'evento, cioè potevo farmelo io, potevo farlo io. Il deputato Alessandro Giglioia porta su Ivrea e sul territorio questo evento, poi ci saranno dei corsi gratuiti per giovani disoccupati, per i NIT, per donne in cerca di occupazione, corsi che stanno per partire, che stiamo lavorando per farli partire e potevo farlo da solo. Non l'ho fatto da solo, ho chiesto l'aiuto del comune di Ivrea, ho chiesto l'aiuto di Confindustria Canavesi, ho chiesto l'aiuto di Agenzia di Sviluppo, ho chiesto l'aiuto di Ascom, ho chiesto l'aiuto di una trentina di associazioni di stakeholder del territorio, di alcuni comuni. Avevamo questa locandina che aveva tutti questi nomi importanti che venivano a parlare a Ivrea di lavoro, al presidente dell'Istat e via dicendo, e praticamente a metà della locandina erano tutti i partner che collaboravano con noi, qualcuno che doveva essere lì per ascoltare, altri che invece doveva essere lì per fare pubblicità e per diffondere sul proprio territorio l'evento, è perché ho voluto così tanti amici, ho voluto così tanti amici, così tanti pezzi di canavese, proprio nell'idea della squadra, proprio nell'idea che se da solo si fa prima, insieme si fa meglio. E quindi se andiamo a parlare di sviluppo turistico, sviluppo imprenditoriale, di un canavese dal quale i giovani non devono più andare lì o magari vanno via per studiare ma poi tornano per lavorare. Allora, se noi parliamo di tutto questo, dobbiamo ragionare in un'ottica di territorio, non in un'ottica di singoli comuni, non in un'ottica di comprensori, alto canavese, proediese, e attenzione, ve lo dice uno che è contro la fusione dei comuni, ve lo dice uno che sì si incatenerebbe se un piccolo comune di montagna canavesano venisse fuso in modo obbligatorio con altri piccoli comuni. Ci sta che ognuno abbia la propria identità, ci sta a rivendicare il proprio campanile, ci sta a rivendicare la propria bandiera associativa, la propria bandiera di una confederazione, penso agli agricoltori come agli imprenditori, o il proprio club, o il proprio sindacato, ma prima di tutto dobbiamo ricordarci che siamo tutti canavesani e prima di tutto dobbiamo fare squadra canavese. Ecco, io ci sono, ci sono per il territorio e guarda, annuncio due cose, anzi, non annuncio, una l'ho già annunciato in un dibattito, l'ho detto, il nostro è un territorio composito, ci sono i laghi, c'è la pianura, c'è una zona più vicina a Torino, ci sono i temi dei canavesani che vivono al confine con la Val d'Aosta, quindi vedono da una parte che cos'è una regione a statuto speciale, invece che cos'è una regione a statuto ordinario. Io sono, ripeto, visceralmente appassionato di questo territorio, sono appassionato delle montagne di questo territorio e mi arrabbio con i miei concittadini, con gli eporediesi che hanno come ottica di montagna la Val d'Aosta e non le montagne del Canavese e lo dico agli eporediesi, andate a visitare le montagne del Canavese, Inglia Locana, Ceresole Reale, Traversella, Vistrorio, Vidracco, perché sono posti bellissimi che non hanno nulla di meno rispetto a Gressonè, rispetto a Pile e rispetto a altri territori. Quindi io sono innamorato di questo territorio e ho chiesto al sindaco di Ingria, Igor De Santis, ho chiesto di candidarmi alle elezioni comunali a Ingria nel 2024 e non mi è stata ancora data una risposta, il amico Igor non mi ha ancora risposto, mi ha detto, onorevole, le faremo sapere, perché giustamente devono anche loro fare le loro valutazioni, ma perché ho voluto fare questa cosa? Perché ho voluto propormi come candidato a consigliere comunale in un paese di 50 abitanti, che è una perla delle Alpi canavesane. Per quale ragione? Per essere più vicino ai temi degli amministratori e soprattutto ai temi degli amministratori di montagna e questo è un annuncio che mi sento di fare anche a voi. Da parlamentare voglio candidarmi a consigliere comunale a Ingria per avere e per sapere più informazioni possibili su quelli che sono i temi dei piccoli comuni e dei comuni anche delle nostre montagne. È uno scoop. È uno scoop, veramente, no? È uno scoop. Non sapevamo, non ci aveva detto nulla. Volevo aggiungere ancora qualcosa oppure lanciamo un appello per il 25 settembre? Io lancierei un appello per il 25 settembre. Chiederei a tutti di andare a votare, principalmente di non disertare le urne perché il voto è un nostro diritto, è un nostro dovere e ricordatevi che chi non va a votare non ha poi il diritto di lamentarsi. Scusate se lo dico così brutalmente. E se non andate a votare ricordatevi che c'è qualcuno che va a votare per voi che non vuol dire che qualcuno prende la vostra scheda e vota per voi, ci mancherebbe altro, ma vuol dire che comunque le decisioni vengono prese anche senza il vostro parere. Mi pare di aver sottolineato il concetto diverse volte. La Lega è l'unico partito che ha fatto delle candidature, in particolare una candidatura, ma anche altre candidature. Penso al senatore Pianasso, penso alla consigliera di frazione di Castellamonte, a Stelzento, persone che comunque hanno delle chance di essere elette e poi la mia candidatura che è lampante e palese è stata fatta per farmi ritornare a Roma e per proseguire il nostro impegno, non il mio, il nostro impegno di territorio in quelli che sono i palazzi romani. E quindi il mio appello non può che essere quello di votare la Lega e in questa tornata elettorale mi permetto di dire che votare la Lega vuol dire votare per il canavese e poi ci sarà la fase dopo e mi permetto già di fare un appello per la fase dopo. Abbiamo parlato di sinergia, abbiamo parlato di fare struttura canavese, io sarò probabilmente a Roma in un Parlamento più rappresentativo delle grandi città e meno dei territori, sarò probabilmente l'unico canavesano e allora quello che chiedo a tutti, amministratori per primi, ma tutto il mondo sociale canavesano è quello in quella fase di starmi vicino e di fare sinergia, lo dico, di aiutarmi, ma anche tecnicamente portandomi quelli che sono i temi, i problemi e le istanze. L'abbiamo fatto nella 18esima legislatura, io penso che farlo con un governo di centrodestra e con una maggioranza ampia di centrodestra sarà qualcosa di ancora più importante e sarà qualcosa che avrà dei riscontri e dei risvolti ancora maggiori. Quindi io mi permetto di dirlo il 25 di settembre bisogna andare a votare e secondo me bisogna andare a votare la Lega perché votare la Lega vuol dire votare il canavese. Grazie, grazie il sbottato Gideviglia. Grazie Marco. Continuate a seguire la BTIM News, il proprio segmento. Grazie.